buonasera e benvenuti in questa nuova diretta dal canale warriors project oggi parleremo di un argomento molto importante perché signori vi hanno detto una bugia e voi ci siete cascati e voi ci siete cascati anch'io per diverso tempo ci sono cascato ma alla fine è una grandissima bugia consueto bicchierino d'acqua la bugia del se vuoi puoi se vuoi puoi niente perché se vuoi puoi non ti porta a ottenere un bel risultato nessun risultato rilevante non ti porta a ottenere nulla se vuoi e fai allora qualcosa ottieni non è detto che tu ottenga il risultato che tu hai in mente puoi ottenere di meno puoi ottenere di più ma ottieni qualcosa ma se ti fermi al se vuoi puoi ti stai prendendo in giro e stai continuando a farti prendere in giro da tutte le persone che ti hanno rifilato questa bugia ti faccio capire perché allora per capire un concetto per capire se una qualsiasi cosa per capire se funziona devi suddividerla e semplificare se tu sei sul divano e vuoi una bibita che hai nel frigorifero ma non ti alzi a prenderla cosa ottieni niente se vuoi la bibita nel divano e fai l'azione che ti permette di ottenere la bibita allora ottieni quindi se vuoi puoi è una presa in giro punto se tu vuoi e non fai non otterrai nulla perché ti parlo di questo argomento perché quante persone lì fuori ci sono probabilmente tu sei una di quelle che vogliono ottenere risultati migliori quante persone tra quelle che vogliono ottenere risultati migliori fanno realmente qualcosa per ottenere questi risultati e allora se vuoi puoi un bel niente se vuoi e fai e ti adoperi e insisti e trovi le soluzioni e inizi a essere un grande risolutore di problemi allora qualcosa ottieni una delle cose che le persone non considerano che è la cosa principale che ti porta il cambiamento e l'esperienza che fai nel raggiungere un obiettivo anche se alla fine non raggiungi l'obiettivo e allora la differenza tra la maggioranza delle persone che chiacchiere crede se vuoi puoi e inizia a mettersi la foto non lo so dei propri obiettivi al mattino senza fare nulla cioè magari quello è giusto per l'amor del cielo è giusto crearsi dei condizionamenti che ti portano a tenere presente focalizzato la tua mente su quello che vuoi è sbagliatissimo fare questo e non fare l'azione pratica non so se mi stai capendo quindi se non iniziamo a mettere in pratica a rischiare a fare a sbagliare e a subire ok l'errore sulla nostra pelle a subire la paura a subire la tristezza a subire questa delusione di non essere riuscito di fissarsi un obiettivo e non riuscire a subirla per superarla cioè quindi la vivo l'assorbo e poi la supero la lascio andare e la vivo come un'esperienza non come un fallimento molto importante questo concetto perché una delle delle credenze più importanti che tu possa avere per creare un cambiamento forte e duraturo nel tempo è che non esistono fallimenti ma solo esperienze solo risultati cosa vuol dire che quando io mi fesso un obiettivo e magari da qui a un anno voglio ti faccio un esempio banale proprio per farti capire voglio raggiungere un guadagno x y ok e io inizio a fare magari un lavoro da dipendente inizio a studiare come va molto adesso guadagnare online insomma tutte queste cose qui inizio a studiare inizio a guardare i video inizio a fare corsi investo denaro vado a destra vado a sinistra apro un sito faccio la pagina facebook faccio tutto quello che serve e alla fine dell'anno io non ho raggiunto il mio obiettivo perché ho speso dei soldi e non ho guadagnato niente ok ho guadagnato ho creato un fatturato ma non ho guadagnato allora la gente dice hai fallito non è vero non è vero non è tanto il conseguimento di quel singolo obiettivo è chi sei diventato l'esperienza che hai fatto le competenze che hai acquisito nel raggiungere quell'obiettivo allora questo è quello che ti porta a crescere e mettere in pratica quello che hai imparato per perseguire l'obiettivo riuscire a fissarsi anche per l'anno dopo lo stesso obiettivo ma con nuove competenze con un punto di partenza che è superiore comunque in quell'ambito rispetto all'anno prima questo fa la differenza e questo ti porta a capire quanto sia diverso se vuoi puoi piuttosto che se vuoi e fai allora ottieni quindi capisci che se vuoi puoi è una presa in giro è una presa in giro per motivarti per spillarti dei soldi per farti star contento due o tre giorni un giorno tre o dieci dodici ore di full immersion e poi dopo quando finisce il corso tu sei in mezzo alla tua quotidianità e non cambia un bel nulla capisci o no che il se vuoi puoi è una presa in giro non accettare la giustificazione del fatto che dice se lo vuoi veramente poi fai no se vuoi e fai ottieni qualcosa che sia vicino superiore o inferiore a quello che ti sei fissato questa è una verità perché anche se non raggiungi l'obiettivo ottieni esperienza ottieni pratica ottieni competenze ottieni una crescita personale professionale relazionale di comunicazione quello che ti pare se vuoi e basta senza fare non è scontato che se vuoi fai perché tutte le persone lì fuori vogliono delle cose non fanno nulla per per agire e prendere queste cose per ottenere queste cose quindi se vuoi e basta non è una soluzione non è una strategia è solo una presa per i fondelli punto non voglio più sentire queste cose qua nel senso non è che a me le dicano però spesso purtroppo sia quando mettiamo fuori delle citazioni o quando mettiamo dei video o qualsiasi cosa basta scorrere un attimo in qualsiasi social network dove si pensa che col pensiero attrae le cose sì ma è una piccola parte una parte delle delle della strategia non è solo quella perché è quella purtroppo sai che cos'è è che te la stai raccontando siccome la parte più facile quella lì è quella di pensare attrarre la parte più difficile di fare rischiare fare azioni che non hai mai fatto per ottenere cosa come mai ottenuto allora capisci che tu sei farei sempre parte di quel 90 per cento di quella maggioranza di persone che chiacchiera pensa che se vuoi puoi ma non fa niente in sostanza per ottenere ciò che vuole e quindi non prendiamoci in giro smettetela di prenderti smettela di prenderti in giro quantomeno abbia un po di di dignità abbia un po di stima in te stesso dai rispetto in te stesso perché alla fine dei conti signori i nostri risultati sono legati i nostri risultati e la nostra felicità l'armonia l'equilibrio che noi possiamo creare tra con noi stessi e con gli altri sono legati al rispetto che abbiamo di noi stessi se tu non hai rispetto per te stesso nessuno ce l'avrà per te e le tue relazioni saranno una conseguenza logica la qualità delle tue relazioni sarà scadente perché se tu non hai una buona relazione con te stesso non ce l'avrai mai con nessun altro perché non sarai in grado di assorbire momenti di emotività bassa di negatività in una coppia in una relazione che sia sentimentale di amicizia professionale se tu vuoi mantenere salda questa relazione devi essere in grado di assorbire la negatività buttarla fuori dalla relazione e sostituirla con positività con sicurezza con dando dei punti di riferimento se tu non fai questo ma su cose si basano queste relazioni quando le cose vanno sempre bene le cose vanno sempre bene poi il prima alla prima tempesta ci mandiamo a quel paese perché noi siamo in grado di gestire le nostre emozioni capisci che ruota tutto attorno a questo ruota la salute ruota le relazioni ruota il business il business lo fanno le persone che riescono a crearsi una pianificazione e la mantengono non è che quando hanno due lire in tasca spendono dieci volte quello che hanno guadagnato senza tener conto che poi devono pagare i fornitori che poi devono pagare i dipendenti che che ci sono le tasse tutto quello che c'è da pagare questo fa la differenza quindi riescono a controllare la propria emotività e mantengono le le parole le promesse e le pianificazioni che stabiliscono con se stesso non c'è il fatto che io dico da lunedì faccio la dieta e poi ogni settimana rinvio c'è una persona che fa così c'è se tu fai così te lo dico chiaramente tu sarai un eterno insoddisfatto perché fare così in tutto in tutto e allora inizia a cambiare stabilisci le tue priorità salve e poi dopo questo sarà ti porterà a essere consistente perché perché devi allineare e questa è una cosa che dico spesso ai corsi ma è una cosa difficile da fare devi allineare ciò che provi con ciò che pensi ciò che dici ciò che fai se tu non riesci a creare questo allineamento questa equilibrio questa coerenza questa congruenza con ciò che provi emotivamente dentro dentro di te nel tuo profondo ciò che pensi ciò che dice ciò che fai se non riesci a creare questa consistenza le tue azioni il tuo modo di comunicare e tutto quello che farai saranno poco determinati non saranno non avranno l'atteggiamento della persona che crea il cambiamento ma piuttosto avranno l'atteggiamento della persona che subisce il cambiamento ok quindi se tu hai un po di onestà con te stesso e un po di rispetto per te stesso capisci che fino ad oggi sei stato una persona che magari rinviava le proprie decisioni non manteneva le promesse fatte a se stesso figuriamoci con gli altri quindi se tu hai la consapevolezza di dire boh io fino ad oggi ho fatto così ma adesso basta perché sono stanco di accontentarmi di questi risultati di essere sempre di subire sempre il cambiamento le altre persone bene da oggi tu hai una grandissima opportunità quella di iniziare a lottare per ciò che vuoi iniziare ad allineare ciò che provi pensi dici e fai ok quindi inizia a decidere chi sei sei la persona determinata o se la persona poco determinata se la persona costante o se la persona che non è costante se la persona puntuale o se la persona che non è puntuale perché come ti ho spiegato all'ultimo video è solo questione di priorità noi corsi lasciam fuori le persone che arrivano un minuto in ritardo un minuto perché quando io chiudo la porta non è che guardo se uno arriva dieci secondi dopo o cinque minuti dopo restano fuori tutte e due chiaro dalla prima volta o dalla volta che io lascio fuori una persona guarda caso chi era lì dentro non resta mai fuori chiaramente a tutti e magari nel corso di un anno a tutti che possono capitare degli imprevisti però lo sanno e al massimo vengono un'ora dopo ma al 99 per cento delle volte salvo eventi imprevisti e quindi cause di forza maggiore le persone arrivano puntuali perché si organizzano per tempo perché sanno che gli serve in ritardo resti fuori questo vale su tutto questo vale su tutto quindi è questione di priorità è questione di organizzazione e allora non è se vuoi puoi se vuoi e fai allora ottieni magari non ottieni quello che pensavi ma ottieni un'esperienza ottieni un po meno ottieni di più o magari capisci che non è proprio quello che vuoi e ottieni un'informazione che ti porta a fissare un obiettivo vero sano che ti piace e che tu vuoi perseguire che tu sei disposto a perseguire nel bene e nel male bene signori io non so perché non arrivano le notifiche quando faccio le dirette ma questa è una bella questa è proprio una bella cosa non arriva mai la notifica di quando faccio dirette quindi non ci stupiamo se poi giustamente le dirette se non le guardano ci lavoreremo capiremo anche cosa si può fare per migliorare quindi lascia il vai sul se non ci sei già andato vai sul link qui sotto arrivi a una opt in lasci la tua email ci metti nome e cognome ti arriveranno due video uno subito di mezz'ora e uno domani di mezz'ora questo è un corso che ti fa capire ti fa capire certe cose ti fa vedere le cose da punti di vista diversi non scoprirai cose non è che diciamo cose che dico cose che tu non conosci cambio la priorità la priorità di cose che tu già conosci ok gli do la priorità giusta ok perché spesso sappiamo quello che dobbiamo fare ma non diamo le priorità giuste banalizziamo alcune cose piuttosto che altre questo cambia i tuoi risultati questo cambia tante cose che tu non consideri quindi lascia l'email guarda il video vai oppure se sei di parma regione bologna viene corso di formazione il primo sicuramente è gratuito poi dopo capisci come lavoriamo e se ti va di fare un percorso che ti porta a raggiungere obiettivi che per te sono importanti e per i quali tu sei disposto ad agire fare rischiare anche rifare di rischiare di fare cose che non hai mai fatto quindi puoi anche sbagliare eccetera eccetera questa è una cosa che dovrai imparare a fare normalmente ok quindi se sei disposto a fare questo i tuoi obiettivi la distanza tra te obiettivi è solo quello che fai quindi è solo questione di tempo e puoi metterti diciamo tranquillo perché se pensi così e inizi a frequentare un percorso in cui puoi fare un allenamento costante continuo come il nostro allora veramente è questione di tempo e raggiungimento dei tuoi obiettivi se invece ragioni come se vuoi puoi come il 90 per cento delle persone per dire la maggioranza avrai sempre risultati mediocri accettalo non lamentarti perché è una tua scelta e quindi vivrà nella mediocrità appunto e va bene così importante che sia una libera scelta e che non ti lamenti di ciò che non ottieni ok questo che voglio dire bene spero di esserti stato utile posso anche verti dato fastidio questo sarebbe solo che un bene perché vuol dire che in fondo c'è qualcosa che magari ti manca che ancora non hai raggiunto e quindi questo video lo spirito di darti un po di sprint per iniziare a fare e smettere di pensare che ti arriverà dal cielo o dalla fortuna quello che tu vuoi continua a seguirci ci saranno delle belle novità perché adesso abbiamo avviato una un'attività formativa sul business che altro dire non hai più scuse adesso abbiamo anche il percorso sul business quindi se sei insoddisfatto a livello di guadagno economico e di prodotti che non sai cosa rivendere come guadagnare abbiamo fatto anche quello quindi adesso puoi fare anche puoi migliorare anche da quel punto di vista lì perché ti diciamo passo dopo passo cosa devi fare e a prova di non dico chiunque ma è a prova di una persona che ha un'intelligenza media ok è una volontà alta perché non serve un talento alto di intelligenza ma serve un una volontà una determinazione alta ok puoi avere anche un'intelligenza scarsa ma se sei determinato e la volontà arrivi se hai un'intelligenza elevata ma non hai determinazione non hai volontà non arrivi da nessuna parte questo te lo metto per iscritto continua a seguirci mettili mail viene corsi guardati video informati cresci leggi fai cerca di ottenere le informazioni non è a caso ma con un senso e vedrai che i tuoi risultati saranno solo lì che ti aspettano devi solo andarli a prendere ciao